Ciao a tutti amici Nerazzurri, eccoci qua, oggi è il 9 marzo 2018 e come ben saprete è il compleanno della nostra FC Internazionale Milano. Tanti auguri Inter, vi lascio al video, ringrazio già da subito Luca Nerazzurro e Neschio per questa collaborazione, guardate il video, mi raccomando e buona visione. Auguri all'FC Internazionale di Milano che compie 110 anni, una storia fantastica quella dei Nerazzurri ed io da tifoso ne sono onorato e porto in alto questi colori. Un abbraccio da Neschio, forza Inter, amala! Ciao a tutti ragazzi, sono Luca Nerazzurro, questo è il mio messaggio d'augurio a quella che è la nostra fede, quella che è la nostra maglia, quella che è la nostra ragione di vita. Noi per assurdo seguiamo 11 cretini che giocano presso un pallone secondo gli occhi di tanto, per noi in realtà è una fede, una passione e una gioia. E come dico sempre io, nella gioia e nel dolore all'Inter ho giurato amore, quindi non mollate mai, sosteniamola sempre, buon compleanno amore mio. 110 di questi anni. Ciao a tutti in Cielo Nerazzurro, eccoci qua oggi 9 marzo 2018 e come tutti voi ben sapete sono 110 anni dell'Inter. Quindi siamo qui in nord di Inter per sempre per fare gli auguri alla nostra amata Inter, 110 anni di storia, 110 anni di vittorie, di sconfitte, di trofei, di tutto. Ormai sono 110 anni che l'Inter è qui, che è al mondo e quindi noi volevamo fare gli auguri e speriamo di tornare a vincere qualcosa, di tornare a vincere. E come tutti voi ben sapete, sempre forza Inter. Concludo io questo video, volevo fare anch'io ovviamente gli auguri alla nostra FC Internazionale Milano, siamo contentissimi, siamo fieri ogni giorno di portare all'interno della nostra pelle questi colori, all'interno del nostro cuore questo scudetto. Quindi tanti auguri FC Internazionale Milano, con oggi sono 110, sono veramente tanti, ma sono 110 anni dove ci ha regalato veramente tante emozioni, tante sofferenze, tanti trionfi, bellissime annate e bruttissime annate. Ma noi, come ho già detto, siamo fieri di portare con noi questi colori e questo sterma. Tanti auguri FC Internazionale Milano e come ormai da due anni a questa parte portiamo il video del compleanno dell'Inter, lo stato per il 108, lo stato per il 109 e con questo lo è stato anche per il 110. Trovate all'interno del nostro canale la playlist Buon compleanno Inter, quindi se volete vedervi anche gli scorsi video andate pure, mi raccomando. E grazie mille per essere arrivati fino a qua con la visione, ringraziamo Neschio e Luca Neroazzurri, Luca Neroazzurro, che si sono prestati per fare questa piccolissima collaborazione. Grazie mille Neschio e grazie mille Luca. E niente, questo era il nostro video del 110 anno dell'Inter, speriamo che vi sia piaciuto, se così mettete like, commentate, condividete, passate da tutti i nostri social e la pagina Facebook del nostro grafico Yismat che trovate in descrizione e ovviamente, forza Inter! Tanti auguri FC Internazionale Milano! Grazie mille!